A Lampedusa un numero record di sbarchi, una situazione catastrofica, frutto di un governo di irresponsabili, PD, Grillini, Fratroniani e tecnici vari. Hanno detto facciamo la sanatoria, la bella nuova con le lacrime, Renzi, Vergogna. Hanno richiamato stranieri da tutto il mondo, non fanno i controlli sanitari, attentano alla nostra salute. Sicuramente Conte meriterebbe le manette perché non garantisce la salute degli italiani. Proclamano poi lo stato di emergenza a livello nazionale, che non si capisce in cosa consiste, perché i controlli non ci sono, ma i divieti per chi fa attività commerciali sì, ma poi non si proclama lo stato di emergenza a Lampedusa, dove il centro di raccolta scoppia, dove il sindaco lancia un grido d'allarme e il presidente della regione musulmanici implora, anzi, imporrebbe al governo di proclamare lo stato di emergenza. Conte non lo fa, sono con gli stranieri, i clandestini e i trafficanti di morte contro gli italiani. Vergogna, cacciare Conte, cacciare i Grillini, cacciare il PD, l'Eur e Renzi, stanno distruggendo l'Italia. Noi siamo contro di loro, la situazione è intollerabile, salviamo l'Italia, cacciamo il governo.